Il ristorante I Chiari è una magnifica struttura immersa in un ambiente tranquillo e rilassante della campagna toscana, lontana dal rumore della città. Potrete trascorrere il giorno delle vostre incantevoli nozze all'insegna della buona cucina e della piacevole compagnia. La location vi mette a disposizione una bellissima sala ricevimenti, decorata in stile rustico, con soffitti a volta e arredi graziosi, dove poter allestire un ricevimento da favola. La parte esterna è composta da una splendida terrazza e da una piscina che si prestano per un banchetto nella bella stagione, oppure per un aperitivo di benvenuto in una cornice naturale, romantica e di suggestiva bellezza. Il personale del ristorante I Chiari garantisce un servizio impeccabile per il vostro grande evento, fatto di professionalità e cortesia, affinché tutto venga curato nei minimi dettagli. Il ristorante realizzerà un banchetto noziale composto da piatti tipici della cucina toscana, preparati esclusivamente con ingredienti di prima qualità. Il risultato finale sarà una squisita esperienza gastronomica, che saprà catturare anche i vostri ospiti più esigenti. Il ristorante I Chiari vi offre la possibilità di organizzare il ricevimento noziale che avete sempre desiderato.